Hai una carta contactless? Ecco alcuni semplici consigli. La tecnologia contactless ha la stessa sicurezza di una carta tradizionale. Avvicina la carta al terminale post-abilitato per compiere il pagamento. Con la sua antenna integrata, la carta risponderà al segnale. L'operazione avviene in modo automatico per importi fino a 25 euro. Per importi maggiori di 25 euro, digita il PIN o firma la ricevuta. Non ti preoccupare, hai totale controllo del pagamento perché la carta rimane sempre con te. Il pagamento avviene una volta sola per transazione. I dati personali della carta non vengono trasmessi. Non dimenticare, attiva i servizi di notifica per tenere traccia dei tuoi pagamenti. Sei sempre tutelato da eventuali pagamenti fraudolenti effettuati a tua insaputa. Pagare contactless è pratico. La sicurezza fa la differenza. La sicurezza fa la differenza.